Carenza di personale infermieristico nelle case di riposo. Alla fine si è trovata l'intesa che consentirà agli operatori sociosanitari di affrontare il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria. Dopo mesi di tensione che avevano portato l'ordine delle professioni infermieristiche ad impugnare la delibera della Giunta regionale del Veneto, una serie di tavoli di lavoro hanno portato alla revisione della norma, in particolare la parte di riferimento alla centralità e responsabilità di chi gestisce il processo assistenziale. Sciolto questo nodo, ovvero espunta dalla norma ogni riferimento rispetto al fatto che ci potesse essere un'autonoma figura professionale nuova, inedita, che ha un rapporto diretto con la persona assistita e ristabilito il principio normativo che esiste da oltre 30 anni, dove l'infermiere è il responsabile del processo assistenziale infermieristico, il problema si è sciolto. Dal punto di vista normativo abbiamo trovato la quadratura del cerchio. La Giunta regionale del Veneto ha quindi approvato per gli OS il percorso in formazione assistenza sanitaria nelle strutture extra ospedaliere residenziali e semi residenziali per anziani pubbliche e private accreditate nella Regione Veneto, corsi che consentiranno alle case di riposo di tirare un seppur piccolo sospiro di sollievo. Praticamente formeremo gli operatori sociosanitari dandole una maggiore competenza e daremo oggi alcuni di questi la terza S. Questa maggiore competenza ci permette di soprire in parte alle carenze di infermieri e a quello che fanno. L'organizzazione complessiva dell'attività è demandata ad Azienda Zero, il tiraccinio, ai responsabili delle professioni infermieristiche delle ULS. In totale in Veneto ci sono 510 posti, dei quali 90 per l'ULS 2 trevigiana.